In una Montesilvano piena di gente a spasso sul lungomare, forse anche un po' troppa, tra biciclette, cani, bambini, podisti e patinatori, proseguono le vaccinazioni al Paladin Martin. Oggi tocca alle forze dell'ordine e al personale della scuola. Nonostante il caso AstraZeneca, il clima è di generale fiducia. Molta fiducia al punto da non neanche mettere in dubbio la possibilità di vaccinarsi. Infatti oggi sono venute le persone, sono suddivise in personale della scuola da un lato, poi ci sono le forze dell'ordine, poi c'è anche il ritiro dei moduli per le vaccinazioni per gli over 80 che comunque proseguiranno. Ma andiamo ad ascoltare le persone che escono proprio dalla vaccinazione. Paura? Un po' sì, perché è sempre una cosa nuova sicuramente. Un pochino sicuramente l'episodio di AstraZeneca ci ha emotivamente un po' colpiti, però devo dire che mi sono tranquillizzata. Comunque ha ritenuto che il vaccino sia sicuramente preferito? Penso che il vaccino si debba fare, assolutamente. La paura ci può essere perché penso che sia normale, poi magari ognuno di noi ha un modo diverso di reagire. Però io penso che anche un'aspirina può dare problemi. A volte prendiamo tanti farmaci e non sappiamo neanche che cosa ci sia dentro. Quindi insomma un po' ci dobbiamo, e poi dobbiamo salvarci. Quindi il vaccino lo dobbiamo assolutamente fare. E glielo dice una che comunque è ansiosa. Si deve fare, si fa. Io sono stato operato al cuore a novembre, sono già stato due mesi e mezzo in ospedale, quindi quello che c'è da fare si fa. Nessuna paura rispetto all'otto di AstraZeneca? A me non ha fatto nulla, io sono stata bene. Però invece mia figlia l'ha fatto martedì, non qui in Veneto, è capitata con l'otto 2856. E com'è stata? Allora al momento è stata bene appena l'ha fatto, adesso però sta sotto controllo medico, dal medico suo, dice se ha dei sintomi deve cominciare a fare leparina. Però fino adesso tutto bene? Sì, fino adesso sì. Comunque sì, uno deve fare. O va bene, o male, se no come lo fai a sapere, insomma. Della sua famiglia che altro si è vaccinato? Solo mia figlia, mia figlia che sta fuori lunedì, che sta a insegnare a Modena. Prima dose, tutto bene, ha avuto effetti collaterali, segni? Ha avuto solo febbre, mal di testa, spostatezza, aveva dolore al braccio dove c'è stata la puntura e basta. Febbre a quanto e quanto è durata? Hai durato un giorno e mezzo, nemmeno, al massimo è arrivata a 38, nel mio caso. Io sono pro vaccino, quindi nonostante tutto l'ho fatto, ovvio. Paura, un po' di ansia, un po' di paura c'è sempre perché è una cosa nuova, però quando ne usciamo se non prendiamo provvedimenti. Dobbiamo avere per forza fiducia di... non sono un'esperta, quindi mi fido degli esperti. Un po' di ansia, un po' di ansia. Grazie a tutti